I flash, le cose e i suoni sono proprio pensati per essere addictive Una cosa proprio fuori... quando trovi una cassa fa dei rumori fuori testa Ovviamente più valore alla cassa più casino fa Sì stavo guardando su youtube mini video e credevo aver capito Carino Ho trovato partita E io no Sono rincolinito, stavo guardando Vampire Survivors ragazzi, incredibile No, ci sta, ci sta Ragazzi scusate, sono un po' rincolinito E le peste, i pranzi, le cene Ma poi stamattina mi sono svegliato presto che dovevo fare una call con lo psicologo Smart staff Tu ci vai? No In realtà no Tantino? Non ancora ci andrà Per le botte di adesso Sempre quel... per quel discorso che non accetti la sua sessualità Esatto, esatto Oh mamma Papà, cosa vuol dire che sono gay? Attacco di panico in live Esatto Prova a farli quittare Cosa significa? Broom, broom, scuteroni Non so se pensi Sailor moon Vabbè, possiamo anche giocare su Discord In game diversi Ah, dici? Sì, la telecronica C'è un lo racconto C'è un lo raccontiamo Talia Blitzkamp, Garen Xayah, Catarina Non lo so Non sei convinto Fagioli e stufa Tu sembra tutto un po' Beh dai, tutto si butta dentro circa Non proprio Loro c'hanno Hecarim, Morianna Pike, Kalista Set Porco, dove sei più convincente? I tabi però qui sono sbloccati sto game E piccole vittorie Ma c'è l'arena per giocare insieme Ma porca paletta Siamo due stupidi Ah, vero Ma tu sei brava dell'arena No, bravo Ne ho fatto tre Ne ho fatto cinque Ne ho fatto venti Totale Più di meno Non penso serva a essere bravi Cioè, prendi Augment La ulti di chi? Nella roba più sbroccateggio Anzi, ti posso garantire che non serve essere bravi Perché io ci ho perso contro gente Che sicuramente non era brava Quindi Penso sia solo RNG Augment based Gli Augment sono Sì, sono importanti Ma io ho visto Soracamilio Con una roba che tipo Potenziava le cure Una roba a disgusto Cioè, erano immortali Letteralmente Eh, dopo questo game Ci facciamo una carina Forse è l'allucinazione Oh Può essere Tu hai trovato partita? Sì, ma devi catturare la scena Perché c'è Vampires Survivors Oh shit Ma ho messo quello giusto È abbastanza importante Magari ci fosse Vampires Survivors C'è il nero Ah, e poi catturare lo schermo In quel caso Vabbè, fixed Comunque tipo Dormo Dormo un'ora in meno Sembra che Boh Non dormo a 10 giorni Stiamo morendo Mi sveglio leggermente Prima del dovuto Finito Andata la giornata Andata E' venuto King Quanto sei a Catanzaro? Fino al 30 Oh no, da quanto? Il 18 No, che è un paio di giorni Mi sa che perderemo E che negatività Q di Xaya La fa così lontano Che non prende il minion Brutta scena Brutta 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 scena Anche perché Non è che dici Vabbè, corta la Q di Xaya Brutta scena E' anpro Ciao 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 qui non c'è c'è un bel l'allà c'è un bel que l'allà l'allà il Bel bet Un campione da vericiante Forte, forte, pure divertente, mi piace Se non ci fosse il TFF sarebbe un po' meglio Benvenuto King Non male Ma una piccola double clip inizia e bella partita Ma vostra o? Mia, mia Ce l'ho fatta io Eh vabbè, nice, nice Però ci tengo a piacere che il mio D-K era già morto Anche qua è iniziato che parte l'incidente TFF C'è un po' più 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 Comunque C'è un po' più 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 Wow, non believe that. Thank you. Thank you. Una roba dovevi fare, flipparlo. Non ce l'aveva. L'avversione l'hanno sorrendato. Così. Nel frattempo c'era Catarina che si lamentava del suo team. Cioè, li abbiamo così tanto stompati in botlane, che hanno regequittato in quattro, e Catarina, ma perché è un team di merda? E lei era 1-2-1. Cioè, è proprio l'assurdo. Eh, sì, sono strani.